ciao ragazzi benvenuti su wildfield studio e cominciamo subito con bloodball 3 ciao nanz finalmente grande allora questa sera è mega party brutal di bloodball 3 quindi chi ha la brutal e comunque chi ha comprato il gioco può entrare nel nostro gruppo discord e venire a salutarci tranquillamente in diretta e allora non è una diretta programmata questa quindi magari vedrete questo replay su youtube nel caso scrivete subscribe qua sotto altrimenti andiamo un po' a braccio allora innanzitutto ho fatto il mio profilo lo spesso così se mi vedete sapete chi sono andiamo su gioca subito allora lanz tu l'hai tirato su un po prima abbiamo la copia stampa tra l'altro vi dico subito anche in diretta che wildfield studio è ambasciatore di bloodball 3 in italia quindi avremo tantissimi contenuti nei prossimi tornei di bloodball 2 il vincitore del torneo di bloodball 2 avrà una chi di bloodball 3 e faremo adesso poi una lega ovviamente di bloodball 3 per testarla un po e darò in paglio delle skin quindi per chi di voi non ha comprato magari la brutal e quindi ha comprato il gioco base normale e vuole vincerci una bella skin o di imperial noble o di orchi neri entro in discord si iscrive alla nostra lega di bloodball 3 così la testiamo tutti insieme più siamo più giochiamo meglio è giusto assolutamente vi dico già che se vinco io vince l'anz ovviamente il premio andrà estratto a sorte fra tutti i partecipanti allora allora sto molto wild vediamo un po qui c'è preciso un quick match che è sicuramente quella online ok crea un nuovo team crea una competizione qua c'è link a discord sicuramente poi abbiamo su gioca la campagna che ci insegna a giocare praticamente i miei sponsor non so cos'è adesso vado a vedere poi dopo hanno degli effetti di campagna vedi i miei sponsor slout raid già mi piace slout raid mi piace tantissimo quindi fitness club incentivi allenamento team aggiuntivo costo tutti 50 per cento fornisce una ripetizione tv ogni tempo poi guaritori vagabondi si fuoricla ovviamente ragazzi lasciato italiano perché così almeno potete tutti capire che cosa c'è scritto in caso ecco io sarei tentato di usare l'inglese però usiamo l'italiano poi nel senso vediamo un attimino se le cose sono troppo diverse magari usiamo l'inglese e traduciamo in italiano così almeno ci capiamo tutti capiamo un po meglio grande matti batti in chat ciao 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 matti allora qua abbiamo un fuori classe tipo rinni torrezione di questo match ok stregone c'è tutto ridotto 50 per cento praticamente tutte le incertive e la slout raid invece che cosa guaritori vagabondi giocatori mercenari illimitati costo incentivo ridotto del 75 per cento per questo match può acquistare mercenari a 30 mila al di sopra del normale prezzo di acquisto questi giocatori hanno solitare 4 più può aggiungere un'abilità primaria costo di 50 mila però sono 75 per cento di prezzo ridotto mica male beh comunque questo adesso non ci interessa questo tutorial lo faremo un'altra volta l'abbiamo già fatto purtroppo per andare avanti con questi tutorial qua bisogna prima sbloccare il primo che è quello che abbiamo fatto insieme durante la beta di bloodball 3 quindi sarà un po' noiozello ma magari qualcuno non ci seguiva quindi poi andremo a farlo magari anche domani mi prendo comunque la giornata per farlo ogni volta che vado live ve l'ho detto ve l'ho promesso anche se non è una live programmata comunque vado su twitch così chi vuol vedere comunque come gioco cosa faccio e così via se lo può ribeccare su twitch magari le cose più belle le mette in evidenza se sono partite a caso o no se invece se sono che tanto durano 15 giorni altrimenti le altre le mette in evidenza potrebbe essere una bella cosa anche vedere se si riesce con queste missioni a insegnare a giocare a blood ball 3 a blood ball second season alle persone vedremo comunque match amichevole o zit si gioca praticamente uno contro l'altro sul stesso computer contro ria andiamo poi a vedere magari in serata un'uscita a un match online credo che questa sia la funzione da utilizzare se vogliamo usare una partita fare una partita di lega possibile anche anche competizioni competizioni attive poi ci sono un po di 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 lega ormai essendo prima ce n'erano 45 adesso scendo il sito brutale di sconti quelli che hanno brutale hanno provato a creare una lega e qua c'è crea competizione ok quindi cosa cominciamo a fare ovviamente poi andiamo un pochino avanti i team disponibili non ci sono perché non li ho creati quindi su crea un nuovo team ma vediamo tutti i team che sono a disposizione in blood ball 3 all'uscita imperial nobility orchi black orcs umani caos renegades scaven owa old world alliance dark elf quindi comunque già dei team validi anche tir uno caos chosen quindi il caos no sono i prescelti questi del caos quindi si sono quelli con i tre big guy che stai usando tu lanz non è il caos base no 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 sono i chosen il caos base esatto questo invece allora la differenza tra caos renegades no caos chosen ah sì che scema questo è il caos base scusate ragazzi ecco ho visto tre big guy e mi sono dimenticato che c'è anche il troll del caos nel caos base adesso perché prima ero abitato a vedere solo il minotauro invece adesso c'è sia il troll del caos che l'ogre del caos e c'è anche e c'è anche il ah ma dici nei chosen eh sì 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 e mi sono un attimo fermato a blood ball 2 scusate esatto esatto mentre invece nei rinnegati hai addirittura rattogre volendo è un team un po variegato dove puoi prendere il fortissimo dark elf e anche uno scaveno un orco oltre agli umani mutanti e a tre big guy dei quattro disponibili dopo abbiamo ovviamente i nani elven union e nargol quindi ottimo tutto molto ottimo sì 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 ma c'è varietà comunque sì 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 il negozio come vedete qua con la brutal abbiamo i mille e mille tokens di war pietra e praticamente a quanto ci spiegavano appunto ci sono delle facce delle skin comunque qui dico di testa spalla destra faccio vedere un po così eh spalla sinistra braccio destro braccio sinistro e corpo queste costano così poco tra virgolette così poco comunque eh perché si possono mettere una volta sola su un giocatore eh per squadra quindi una volta che l'avete messa su un giocatore non la potete mettere su tutti i giocatori che avete o su un altro giocatore di un'altra squadra una volta che quel giocatore muore o comunque viene eliminato dal roster a quanto capito eh questi abbellimenti si possono riutilizzare sì sì è come fossero un equipaggiamento in slot no esatto esatto poi andiamo sulla warpstone così vediamo anche quanto costa la warpstone eh sono un centesimo a muta pietra esatto esatto perché qua come vedete il valore di questi mille sono praticamente 10 euro esatto ok poi c'è un ovviamente pagando di più c'è il classico bonus esatto 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 tipo qua invece di 19,90 22,25 29,90 35 49,90 65 quindi 6500 di muta pietra qui poi vedremo più avanti anche il discorso del pass quindi quanto andrà a costare un pass secondo me costerà 4,99 costerà 500 di muta pietra un pass poi magari però mi sembra un prezzo potrebbe potrebbe abbastanza anche perché non puoi spendere 9,99 di di pass quindi secondo me non è detto però vedremo no vabbè potrebbe massimo secondo me costa 4,99 il pass quindi 500 di muta pietra poi vedremo quanti quanta muta pietra si prende con con il livello partendo la season one non adesso ma il 25 maggio sì c'è tempo non abbiamo ancora i punti esperienza per la partita quindi non sappiamo ancora quanto il pass non è ancora disponibile perché non esiste ancora la season one è una specie di pre season questa quindi è un po' come se il vero campionato il vero punto esperienza iniziasse a maggio comunque altre notizie belle che abbiamo visto ieri magari non tutti hanno visto la diretta della della saianide della nacon allora ad agosto esce la cabal tv quindi si potrà finalmente commentare come facciamo noi di solito e a novembre uscirà il cross play cioè quindi se tutto va come dovrebbe andare a novembre ci dovrebbe essere cross platform ovviamente tutto oltre a quello che uscirà poi a maggio esce la prima stagione col primo team nuovo ad agosto esce la seconda stagione la season 2 con il secondo team nuovo e a novembre la season 3 con il terzo team nuovo da aggiungere a tutti i roster giusto lanza sì assolutamente ok lega di lo spesso zero competizioni comunque questo non so cosa ci clicco sopra perché non so cos'è membri zero questa è una lega che mi ha creato automaticamente probabilmente no queste è come è come fosse la lega e poi ci sono le competizioni no sai ti ricordi come c'era wild thing a ok le competizioni sotto quindi ok comunque vedi che come ruolo sì ma io parlo di admin tool più sì sì certo prima più profondi certo certo comunque vedremo adesso vedremo quindi notizie niente sono anche questo carino no se uno ha una persona come san pittu ad esempio che scrive le storielle è vero mega cazzate di san pittu tutti i giorni ciao zil intanto zil unisciti a noi tu dovresti vedere il bb3 brutal party canale audio entra e parla tranquillamente perché stasera non ci sono solo io e lans tutti quelli che hanno comprato bloodball 3 e si sono segnati sul nostro gruppo discord di bloodball 3 possono entrare e parlare con noi stasera proprio serata cazzeggio quindi e rutto libero e rutto libero l'importante è che come sempre non bestemmiate e moderate i toni che poi i toni in toscano è la tuta e toni e toni allora 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 io direi che potremmo iniziare a ma secondo me tanto creare un nuovo team dai io l'ho detto che lo facevo io l'ho detto che lo facevo quindi torniamo con gli umani f dettagli cos'è punti di forza adattabile giocatore a molta vita una mancanza di metà specifica che rende difficile gestire il team sti cazzi nome del team dai riproviamoci vediamo come mi porto bene sparro hoax provo a ricostituire i tillian sparro hoax che sono gli umani che ho portato in albione quindi eccolo e buonasera zilla buonasera zilla anche tu sei presente per la creazione dei tillian sparro hoax e poi basta non c'abbiamo nessun altro puoi dirlo volta ok poi devi andare su personalizzato personalizziamolo e convalidiamolo allora sono stato giusto per un saluto perché mi sto regando al compleanno della genitrice brava 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 genitrice noi comunque domani si rigioca lo stesso quindi se tu ci sei eventualmente noi dopo vediamo ok ci organizziamo per capire come funziona la lega dopo la creazione del team cercheremo di creare la lega così vedremo anche cosa possiamo fare ok io vi lancio in sottofondo comunque allora 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 grazie grazie zilla io direi allora i tillian sparro hoax erano famosi per non avere l'ogra all'inizio pensa come giocavo splendido giocavo con quattro blitzer e non avevo l'ogra all'inizio in realtà ci sta allora 3 4 però se voglio posso far così senza grassi problemi che c'erano una volta per esempio dopodiché se io vado qui ok ok poi vediamo comunque quattro blitzer poi cavolo l'alflin mi fa gola perché prima non ce l'avevo la possibilità senza ogre per fare il fallo l'alflin da fallo vediamo cosa mi avanza alla fine della creazione del team tanto il lanciatore tanto il trower ne prendo uno perché costano un po' di più giustamente detto che hanno trow 2 più a questo giro e via quindi siamo sono tanto eh i trower 80.000 e tanto e beh erano 70.000 prima però non avevano a g4 sul passaggio no no è vero è vero che non lancia nessuno ma io lancio e quindi no no ci sta allora di solito non avevo neanche il ricevitore perché me la prendevo coi blitzer la palla quindi per il momento vado di linea umana ogni 5 1 2 3 4 5 6 11 questo è il minimo eh io forse forse ci può anche stare se vai senza ogre beh costano meno adesso i ricevitori effettivamente a 65.000 fa gola pure lui ehm anche anche in 12 eh nel senso no no infatti infatti perché altro voglio vedere a quanto sono 735.000 iniziamo a fare molti più di 5 le tabelline di cos'è yugioh vabbè comunque sì tecnicamente è meglio fare 12 con il ricevitore perché poi dopo inizia a diventare un problema però vediamo ehm allora re-roll 3 e? guaritore 1 e un tifoso sfegatato no un assistant coach perché io ho detto che da bloodball 3 voglio iniziare a credere a questa cosa eh in bloodball 2 comunque kickoff table era assistant coach 6 cheerleader 8 adesso assistant coach ti dà un re-roll e esce fuori col 7 so che i dadi sono completamente a caso però se stiamo un attimo a guardare le probabilità esce con più probabilità al 7 inoltre in questa edizione di bloodball i re-roll si possono usare quando vuoi quindi vincere un re-roll può anche voler dire che invece di uno ne uso due nello stesso turno quindi secondo me esatto e inoltre un'altra cosa gli assistant coach se non mi ricordo male quando li compri eh wandering costano 20.000 mi sa non 10.000 perché ovviamente hanno più possibilità e a eh secondo me a rinforzare quello che ho appena detto il massimo di assistant coach che può avere in squadra è 6 mentre il massimo di cheerleader è 12 questo perché gli assistant coach influiscono molto di più quindi io un assistant coach lo prendo si chiamerà l'anzo e mi suggerirà cosa fare ok quindi 995.000 bon gli altri 5.000 euro li spendo in birra buono quindi tilian sparrowhawks ci sono ok quindi questo ok faccio acquista e poi potrò modificare penso tutto dopo penso ingaggia ok ok però puoi fare personalizzazione brava bravo personalizzazione c'è giocatori anche allora basta sti halfling però non ne ho manco uno in squadra che cazzo me ne frega dell'halfling ecco ragazzi miei io mi congedo perché sono arrivato bene bene dai allora ci aggiorniamo alla proscemes ok ciao 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 buona serata raga a te allora vediamo un po' se c'è qualche falcone di quelli belli ta 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 un po' stasera ci divertiamo ragazzi eh saremo anche un po' pallosi ma poi dopo quando uscirà uscirà tutto l'ambaradana a commentare allora lì sì che ci divertiamo allora questo no cavaliere augur già potrebbe essere carino qua iniziamo ad andare verso gli orchi verso il caos vediamo se c'è qualcosa qua i nani ovviamente narcol forse nelle cose degli umani c'era qualcosa di adatto sì 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 voglio vedere un po' più o meno ma guarda ho visto una cosa che mi piaceva abbastanza anche se non era proprio fantastica però l'idea era buona che era quel falco sul sul casco ah sì quello da questo qua questo corvo sul casco dai questo qua sì è quello da Bretonani sparhawks mi sembra carino dai sì è carino carino questo a posto poi modello Italian sparhawks se non mi ricordo male erano abbastanza classici quindi non erano a po' no non erano a po' scherzo sai sai mai che a fiori mezzi e mezzi non è male mezzi e mezzi non è male vediamo qua cosa ci dà come possibilità perché poi se li voglio dipingere se non voglio appagliacciarli troppo che poi tipo questa che è veramente plasma plasma blade muffabili la muffa non li faccio muffiti ok diciamo dai per rifarli questo mi sembra un bello schema ok bianco di qua si mi piace mi piace molto tavolozza attenzione perché qua mi piace da morire i nomi dei colori sono gli stessi dei colori gv ah bello pink horror mephiston red corax white bellissimo allora colore principale allora loro sono arancioni e neri questo è proprio red anche se non sembrava red wild ride red no troslayer orange questo è arancione sì o scragg brown no troslayer orange va bene vediamo se c'è qualcos'altro okram no no va bene troslayer orange colore secondario il nero secondo me a figurti se lo mettono in caos black con la c no è gv non saprei ah sì sono io che non l'ho visto white scar corax white non c'è il nero perché non c'è non esiste il nero in gv perché vabbè non sono tutti i colori gv sono 12x7 però scaven blight scaven blight prova eh è un grigio che ci può stare è un grigio che ci può stare colore terziario bianco sì così delinea bene il resto ottimo queste robe verdi forse sono per i per i position chi lo sa comunque questo apposta vedi il blitzer è così il ricevitore viene così molto figo sì sono carini line man umano thrower ogre che non c'è l'uomo nezzuomo ignoranzo qualsiasi mix di colori esatto poi volendo se uno fosse proprio che ci avesse voglia tanto di giocare tanto balthasar incubo gustave tacchetti cruenti anton buonanotte angi ram mangia erba i nomi in italiano sono alluginari merry carneficina quello è quasi carino sì granti rocchio scuro girò il pugnale ricevitore va bene comunque va bene e abitiamoci anche alle nuove skill comunque dai non sono malissimo sono forse un po' confuso e c'è troppo disegnato dentro non sono malissimo anche se proprio devo veramente capirci ancora già comunque credo che i colori si possano già identificare per esempio il viola ecco questo forse l'han tenuto un po' come per la torneistica il blu sulle general il viola sulle passing il giallo le agility quindi seguendo questa cosa il verde è rosso esatto non mi ricordo se è verde o rosso e via così insomma e zio cantando esatto allora qua in realtà la formazione qua ovviamente 12 il ricevitore formazione offensiva ad esempio vedi ora io qua non sto a mettere troppo secondo me però se lo facessi adesso non lo farei dopo tu dici beh sì vedi tu no 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 non lo faccio qua ci vuole però e non è una cazzata secondo me è bello farsi le formazioni stare lì pensarci un pochino e iniziare a fare delle cose io me le faccio sicuro quindi io adesso magari non vado a giocare adesso magari dopo gioco faccio una partita con due team precostruiti magari anche quello e poi dopo mi vado torno dentro la mia squadra e me la vado a personalizzare ora che ho fatto indietro dovrei comunque avere il team infatti Tilean Sparro eccoli qua ok registrazione libera e via e quindi una cosa l'abbiamo fatto intanto ciao Farah ma è la stessa divisa di Haikyuu compreso il corvo o sbaglio chi è Haikyuu? scusa l'ignoranza fammi sapere chi è Haikyuu comunque Tilean Sparro come dicevo all'inizio è il mio team di umani che utilizzavo quando sono andato su a lavorare a Nottingham nel 2002-2003 e che si sono qualificati se non mi ricordo male noni nella lega di Games Workshop quindi hanno fatto la loro porca figura e sopra di me c'era P-Tains con gli orchi bene allora questo ok poi andiamo indietro home crea una competizione dai così almeno andiamo a vedere allora vedi qua ti da un un qualcosa che ti spiega anche come fare poi dopo quando già lo sai smarchi qua quindi nome ah ok devo confermare perché se no nome V-T-L Brutal League 0 ok logo ok quindi logo io per comodità tra virgolette anche se in realtà non so se questa è la mega sezione L'ANZ sai che in Blood Bowl 2 c'è Wife in League e poi tutte le sottoleghe sotto si se fosse così no perché la mega sezione la decidi nelle tue leghe con la parte che hai visto prima ah ok hai capito ho capito ho capito sulle leghe di 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 dello spesso ok allora usiamo la Brutal Comet dato che abbiamo dato quel nome che se non mi ricordo male è una roba della Brutal è limitata della Brutal formato eliminazione diretta no giuro nell'italiana giro nell'italiana anche dall'altra parte chi lo sa eh no a classifica mobile però classifica mobile è la ladder a classifica mobile è la ladder slot disponibili illimitato va bene così allora nella ladder abbiamo due opzioni o agonistica o 4 minuti esatti io forse direi di mettere agonistica sì anche perché 4 minuti esatti sono 2 minuti tutte le partite esatto perché le 4 minuti esatti sono 2 minuti della CCL ok modale emissione biglietti invito richiesto credo sia quello sì perché alla fine i ticket eh però invito richiesto forse forse con i ticket prova facciamo con i ticket proviamo con i ticket un po' alla vecchia maniera qua addirittura si potrebbe aggiungere una password in questo momento non la mettiamo la password perché poi se dopo sfugge al controllo la gente che non si è iscritta su discord può entrare qua sopra e quindi non va bene per quello che riguarda il nostro modo di fare Lega allora andiamo avanti fase 2 ogni competizione fa parte di una Lega le Lega consentono di conoscere altri attenti e comunicare all'interno di una community riunendo diverse competizioni al momento della creazione della counter è stata creata una Lega per te puoi usarlo creando una nuova per registrare la tua competizione hai capito hai visto eh crea una Lega allora la creiamo così nome Wild Thing League yeah traditional poi il simbolino della VTL se non mi ricordo male è quello scudo col grifone è la doppia vuona però se volevi usare quello questo era quello che usavo era quello mi pare sì controllo un secondo gli altri simboli perché non mi ricordo bene però mi pare che c'è proprio lo scudo leonino allora anime sulla palla a volo con la divisa di quei colori e il corvo come mascotte ah no ho visto però recentemente un anime sullo basket quello sì ecco slam dunk no non era slam dunk era un altro su netflix l'ho visto stavo guardando se c'era qualcosa di carino martelli gemelli già mi piace il nome martelli gemelli sputo di drago sputo di drago sta a posto questo è carino ah sono sempre qua perché giustamente nargo robe palla venifica coi funghi anche quello non è male oddio anche lacerazione finale non è brutto come simbolo no cosa dici cambiamo perché siamo bloodball 3 mettiamo questa è così è un 3 dai sembra molto carino sembra molto carino cambiamo lego passo richiesta no perché no non voglio la passo richiesta convalida creazione ecco mi piace tanto la un po' slanesh la cheerleader ok quindi questo c'è no competizioni ah competizioni gestite no competizioni attive boh uniscita a una competizione no no com'è che si fa a inserire qua quella di prima panoramica panoramica indietro secondo me indietro wifi zero competizioni ok quindi se adesso vado indietro brutale league avanti click avanti la competizione è quasi pronta per la creazione verifica le impostazioni e se ti soddisfano conferma la creazione ovviamente dobbiamo decidere no classifica mobile salato limitato agonistica l'agonistica vi ricordiamo sono i due minuti più i sette minuti e mezzo di pull tra il primo e il secondo tempo esatto e facciamo così ragazzi perché il tempo illimitato è troppo è troppo quindi impariamo un po' a giocare tanto all'inizio non è molto importante la prima la facciamo così cioè proprio a spaccarci ok poi dopo ci regoliamo però è anche un bel allenamento giocare in questa modalità che così ti abiti un po' a decidere d'altronde il bloodball nasce col principio il four minute clock comunque e quindi avere quattro minuti anche nella vita reale nasce col principio che il bloodball è uno sport frenetico quindi sebbene possa rovinare il gioco cioè non a tutti piace il discorso però l'idea è che il coach non ha tanto tempo per prendere decisioni quindi deve farlo in fretta e questo mix tra avere due minuti per tempo e sette minuti e mezzo di pull sicuramente è un ottimo mix anche se però se non state attenti nel secondo tempo avrete molti problemi quindi occhio ok questo a posto con valida creazione ole ottimo benissimo quindi per esempio questo ok registra un team team se io faccio così posso registrare un team ma perché io sono quando scrivo un team a una competizione il team diventa esperto non riceverei più rimborsi per la vendita di staff e giocatori ok ok vabbè comunque ok e questo lo abbiamo riepilogo modalità di ammissione e biglietti questo volevo capire questo volevo capire ah poi cerca un avversario intanto vedi come facciamo presto mi creare un team anche tu eh esatto intanto io qua vedo le altre cose tipo partecipanti io ho già quel team la di ah guarda che carina sta cosa comunque team IA quantità di team controllati direttamente dall'IA ora l'IA fa schifo quello che vuoi però cioè anche questa cosa qua è un po' da vedere no certo certo per capire se uno vuol fare veramente una lega e magari vuol giocare una lega infinita senza fare il massimo di dieci partite no quelle cose lì ehm utilizzando magari un team controllato dall'IA sarebbe un attimino carino vedere tanto qua sta caricandola qualsiasi quindi vabbè per ora non ce ne sono niente in registrare parametri di competizione sempre lo stesso discorso di prima o si sta impallando il server e quindi secondo me si sta un po' impallando il server non vorrei dire la mia eh però può essere perché se si iniziano a connettersi tutti tanto grazie per essere qua durante la live ragazzi se vedete che c'è qualcosa che non vi torna fatemi sapere io ho messo queste pubblicità queste cosine qua in questa posizione qui perché poi quando si fa la partita dovrebbe coprire il meno possibile la schermata poi cosa c'è cos'è questa n nessuna notifica ah nel notifico ok cose varie ah vedi che si è caricato qualcosa fine competizione se non la vuol far finire mi sa che mi devi invitare tu ok quindi partecipanti torniamo no aspetta no 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 c'ho register ok sono registrata la Welfing League senza però ticket per niente ok adesso è la brutta ok adesso vediamo per la brutta intanto vedevo community league justice ci metto un po' a caricare perché il goblino che vedete dove c'è orkswagen adesso dove c'è Haina Kane che però copre tutto intende dire che sta caricando quindi abbiamo un attimo di pazienza vediamo un po' come va tanto ditemi avete preso tutti la brutta qualcuno di voi non l'ha preso ecco qua che sta per comparire scrivetemi in chat dimmi mi sono registrato alla Lega e lì è stato free quindi lo possono fare tutti probabilmente dovrai mettere una password per l'accesso alla Lega per la Wifi League esatto poi una volta dentro ho provato a registrare il team alla brutal ma mi dice errore quando faccio registra perché sei tu che mi devi mandare il ticket da dentro la Lega per accedere alla brutal infatti quello che sto cercando di fare è entrare nelle leghe gestite però magari mi metti tutte quelle del mondo forse per quello che leghe gestite c'è solo la tua ok perché qua c'è altre leghe dove c'è il mondo allora vedi leghe giocate per esempio vabbè entro nella Wifi League ok membri 2 eh sì perché ci sono io competizioni ok allora competizioni gestite questa quindi partecipanti io stavo cercando di capire se qua dopo quando mi finisce ricaricare mi dà la possibilità di invitare qualcuno sì aspetta un attimo aspettiamo e vediamo se così stasera giusto ci occupiamo un po' della gestione poi vediamo se fare una partita al volo con due team precomposti questo continua ad accaricare no forse non prova un po' scusami dalla dalla league se puoi invitare dalla lega non dalla dalla league mi dà competizioni attive competizioni gestite uniscite una competizione gamer gamer cerca azermas eh i server soffrono eh sì ora stanno creando tutti quindi vabbè direi che magari ci smanettiamo poi dopo dai facciamo una partita al volo magari un match amichevole contro gli A mo sta soffrendo pure la partita amichevole impostazioni match modalità agonistica ok ok ci siamo quindi team predefiniti no 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 puoi usare gli Sparrow credo eh però amichevole quindi non si non rimane niente non è un problema no 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 infatti team Sparrow poteva anche metterlo con il colorino giusto però vero vero dai su dai non cominciamo fate i corollini giusti allora 995 c'è qualcosa da 1000 eccolo qua 995 facciamo contro gli orchi green skin gut rippers umani contro orchi fiscuri sì sì va bene orchi adesso c'è qualche altra bel team magari nuovo gli orchi sono un po' una una palla sì nargle nargle bella lì bellomino quello che ti saluta assolutamente sì i T-lan Sparrow vanno a impestarsi la vita contro i wasteland slimeballs spesso per schippare spacebar qua non è più esc non è più click però posso fare pronto tranquillamente quindi qua due minuti per incentivi fuori classe che posso prendere io baric sparalungo attenzione ernesto sparalesto e poi scrollando con la rotellina giù abbiamo altre Helmut Wolff Carla Von Kiel Morgan Torg e Zag il possente mercenari qua si possono comprare per una partita e via così non c'è Griff sì che c'è sì che c'è sì che c'è è qua Griffo Berualdo ah ok ok eh sì ci mancasse e nella presentation ero già in ansia ah lì qua c'è già del mutanzio ah perché è l'allenatore ha vinto il lancio della moneta contro di loro forse è meglio che ricevo il pallone mi spaccano il culo se no all'inizio mi sa c'è pure la besta di Nurgle è vero Nurgle Nurgle ok ora io ho un problema CTRL non funziona quindi com'è più no abilità innate abilità giocatore quella lì devi metterla con le due pop up di entrambe come faccio a cambiare devi cliccare ancora due volte basta che vado in giù con ok ok ho trovato ho trovato quindi questo che cos'è un lineman ah questo qua ok perfetto quindi due no ok poi il catcher lo mettiamo che se no lo mettiamo adesso quando lo vuoi mettere mangia erba lo mettiamo magari in panca in panca sì poi vediamo qua io andrei subito a spaccare un po' il culo alla gente quindi ah ti ha messo un milione di persone in linea sì potrei provare a spaccargli un po' di robe c'è un pestico in linea sì direi però che facciamo così e dai ce la giochiamo un po' così a cazzo andiamo che succede la prima partita che faccio dopo anni quindi va bene così calcio alto eccolo lì subito al volo a 4 più grande eh vabbè raga ma tocca già a me va bene ok doppio click funziona anche se c'è sempre da stare attenti eh primo click così secondo doppio click e via muori di qua e seguo e via spaccato subito sì 12 infortunio è morto morto immediato il primo blocco oppure impallato allora qua faccio invece un blitz prima di eh bravo ok via qui seguo no non è non è altrettanto morto allora mi muovo qui e va bene così poi poi lì c'è una bestia vabbè continuiamo a fare i blocchi comunque grande matti che dice un blocco un morto fai paura eh beh ragazzi era giusto così cioè ho dovuto benedire questa ok ok tu ce l'hai block io ce l'ho block ok facciamo le cose normali dai ho sbagliato vedi qua ho sbagliato non posso più passare la palla è vero è vero e allora faccio così sì però io capisco ok quindi se faccio così ok seleziono lui ah ok posso fare così e poi se mi piace faccio doppio click ok qua i blocchi a un dado io non li faccio quindi questa linea qua la tengo così e via questo non l'avevo considerato ma va bene si rialza eh sì vabbè vabbè belli i dadi di Nargol sì è vero non ho notato adesso che ci sono dadi diversi a seconda della razza ok fa il suo ma tocca a me ottimo tocca a te tocca a me allora allora ma tu sei vivo qua ma stai scherzando veramente non puoi essere non puoi essere vivo ho sbagliato avevo già il catcher potevo fare vabbè tranquillamente le cose e allora devo fare il blitz con lui non mi è andata benissimo vabbè più o meno dai ti liberi comunque sì sono un po' un coglione perché vabbè ma va bene era un blitz per pushy se usciva qualcosa altro a me sì allora qua non l'hanno capita gliela faccio capire così poi bang 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 uno qua iniziamo un po' a spingere la linea no dai ok e vabbè ok non è male seguo va bene poi qua ah cazzo sono già così lontano sì hai ragione allora oh sì ok però allora qua e qua lo so che è baso però eh no ci sta però comunque li tieni tieni lì i rotor che c'è i i blotter quasi quasi potrei andare a fare subito touchdown però potresti anche sì potresti anche volendo sì tanto attivazione del passaggio cazzarola che giusto giusto dai fate il vostro non sarà spettacolare ma va bene così vabbè doppio sei estremo e allora eh 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 se no potrei ancora aspettare un turno ma certo se hai modo di mettere la palla safe ma guarda pensavo di far così per metterla safe eh sì insomma ok bene non metto safe il portatore ma fa lo stesso no rotto nove sei stordito eh vabbè dai e qua prova a fare il numero sono un easy dodge ma certo sono un umano però forse ho sbagliato devo metterlo qua devo metterlo scatticchio dai scatticchio fatto molto bene molto bene vabbè qua muoiono un po' di lime ma va bene così è la base degli umani ok vabbè vabbè manco l'armatura buca quindi va benissimo buonasera amici e buonasera a colui di cui non ricordo il nome perché se l'è cambiato eh sneaky e ne raven buonasera buonasera bene pc da formattare insomma vedo che sei pronto ah la bestia fermateli bravo ah non segue strano ok fammi un po' ragionare qua tanto muoviamo mi sei libero di fare ciò che ti piace ciò che più mi aggrada esatto e qua ci metto un bel lineman bravo bravo e qua mi porto a chi direi mi hanno detto che muovono poco i catcher umani esatto costano 65.000 bravo e valido molto bene allora lui deve morire tenendo ferma la bestia dopodiché qua abbiamo allora lui mi sta ammazzando in questo momento lui mi sta ammazzando in questo momento quindi io devo cercare di fornire un certo tipo di supporto lì ci sono i due blitzer che stanno messi male ok un certo tipo di supporto ah minchia questo ah no non è ok va bene così allora questo è un giocatore un po' importante devo stare attento a muoverlo quindi non devo muoverlo troppo in là questo a posto qua gli facciamo fare un bel blitz però se muori 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 laggiù in un ragico che ci dice che il team di nargo gli ha attaccato l'influenza ottimo vabbè tanto ora sta a tempo indeterminato panca malarti davvero che cazzo vuoi va bene così dura adesso muori fallaccio inutile 8 5 peccato è uno stannetto è uno stannetto porto qua eh questa me la sono un po' andata a cercare me la rirollo bene muori qua qua stai fermo eh sì perché in fondo lo sapevo rotta l'armatura estordito eh sì buono 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 devo dirtelo fine turno perché sennò è un problema qua fin tanto che la bestia non si avvicina a sti due sta abbastanza tranquillo adesso vabbè niente e pushis ah proprio così così ok vabbè a me dato che mi è piaciuto ci torno però aspetta a questo punto eh sì facciamo una cosa un po' particolare è infatti doppio teschio questa me la sono proprio meritata ok che mo' inizio a rimuoverti gli amici oligani oligani repellente passato blocco io ce l'ho e tu? no mi spiace per il fallo vabbè no stai fermo lì tanto è un fallo talmente leggero che insomma a meno che non lo fai sul bloater eh sì era quello capito lo volevo fare sul bloater ma lo fai sulla casella di fianco alla bestia no è che non ho lineman no non hai vero vero basta per quello questo potrebbe essere un surf ma hai già blizzato eh doppio uno non va bene ora però ti metto in condizione sì io qua lascio tutto come era e va bene così quindi dai ce la si può fare anche in due minuti si fa delle pazzie no vabbè sì ma poi è anche questione di pratica eh ciao allora 7 secondi ho usato in una partita intera quindi ole via così solità dai ha rinrollato il loner ahia questo fa male ahia ahia passato uh meno male che ha fatto doppio uro ficcatela qua inizio eh vabbè scusa però eh io qua mi tento un sorridice a bomba se riesco vediamo eh guarda voglio fare una cosa ok ah intanto ho fatto male ho fatto male ho fatto male beh essendo di nargo ho fatto bene no di sicuro ho fatto malissimo ho fatto malissimo ok quindi se io faccio così adesso ho il due dadi via fatto male la versione base 30 euro Nura la brutta al 40 no chiedeva il costo ma no marca fai un dado vai no cazzo scusa stavo per passare si ho capito era giusto era giusto ok ah ti faceva passare sulla di controllo ma dai eh sì 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 ok ragazzi un dado surf in USA eh yeah fuck yeah no non seguo sto fermo non è il caso non è il caso boom via come botte da orbi altre cose da fare no niente di schiena però è fuori ho sbagliato dovevo metterlo qua mi sono sbagliato ragazzi cambia relativamente sì tanto faccio pau quindi mi interessa molto faccio rientrare anche lui perché Nargol non vuola e ciao grande neanche un secondo devo solo ricordarmi che sono al sesto turn perché in effetti il contaturni non si vede benissimo se devo dire un po' in alto un po' piccolo anche ok 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 vabbè allora lui lo tiro su qua inizia a essere un po' poco simpatica la cosa quindi questo deve andare a marcare questo fa un bel blitz augustin vecchio ramo comunque sta prendendo botte dalla bestia e se ne sbatte ah sì sì se ne sbatte come i rami che rappresenta esatto non riesco però a che succede no ok non lo so cosa fa repellente ti ha bruciato il blitz ah è vero perché è vero perché in questo caso con le nuove regole bisogna prima selezionare la persona su cui vai a fare blitz in questo caso avendo repellente rimani fermo qua non è che ti muovi qui eh vabbè applicate bene cioè comunque ho fatto bene l'algoritmo ecco insomma questo mi fa piacere poi qua a questo punto facciamo allora un'altra cosa sai che credo che ti possa tu vabbè dimmi credo che tu ti possa comunque muovere anche senza bloccare no ti brucia il blitz repellente ah forse hai ragione forse sì forse hai ragione sai devo verificare andiamo a mucchiare le persone Marco non Marco no non Marco ok qua non faccio il fallo perché è un problema quindi non lo so Raven da console ne ho idea aia aia e questa me la merito eh questa ci sta però alla fine non rischi la palla già però mi passa l'armatura e i stun ma ti dirò che a livello di gameplay gira abbastanza bene ora come ora senza neanche un vero pc particolarmente strong raven raven bene qua augustin vecchio ramo che si sta facendo la bestia da solo credibile va beh qua Anton buonanotte subisce il blocco vediamo se riesco a farmi ammazzare qualcuno di importante no fortuna no tieni anche conto Raven che il crossplay è previsto tra nove mesi tipo quindi se se vai su ps giochi su ps quindi valuta anche quello sì è previsto a novembre il crossplay novembre sì eh fate proprio schifo io che cosa ti devo dire eh sì non so cosa dire eh ragazzi ci sta nel senso però adesso il blocco senza blocco non lo faccio eh non lo farò dopo sì infatti faccio però sta cosa torno un attimo indietro ah ok poi faccio questa cosa qua sono tre caselle sì qua giusto perché non si sa mai eh però questo non lo riesco a bloccare eh sì c'è ragione c'è ragione puoi fare un sì mando a bloccare sorridize sì posso fare un sorridize prima vedo se il trower mi schilla perché sai io quando blocco col trower ti ricordo che mi trovo è una forza a quattro oh infatti è infatti avete capito perché sono il grande coach degli umani provera forza a quattro eh sì adesso faccio un sorridize guarda qua eh vabbè quasi quasi ottimo ottimo eh seleziona eh va bene ah devo comunque selezionare io per confermarlo bravo bravo c'hai i pushies va bene eh ma non ti seguirei fino là però starei anche qua e qua faccio un blocco ondado ma vabbè tanto fate tutti schifo ok allora caro straniero 1 l'icona per vedere tutte le skill è quella sul tasto Y te la faccio vedere questa qua sul tasto Y devi cliccarla tre volte se vuoi vedere le skill di tutti se la clicchi una vedi solo le tue due vedi quelle dell'avversario tre le vedi tre sì perché parte da uno che è nascoste esatto io comunque qua lo spesso sta usando quella che vede solo le sue sì sì tanto gli altri non mi interessa no no ma per dire ora vado a farminta poi è arrivato è arrivato il deliveroo ok con il Nargle King quindi oh mio chi il Nargle King Old Wild Best Beast o lo hai visto esatto ok comunque sono stato un miracolato di fase di blocchi perché sinceramente vediamo se posso fare qualcosa sicuro e figurati straniero tipo qua non è Doge non devo fare Doge no? no no stavi strippando bene ok Giuse Rubino va a tirare a Giroid Bad Sword una mazzata a due dadi e vabbè l'abbiamo spinto che ti devo dire pushis tanto muove di tre caselle marce più sì 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 lo sento che è arrivato il cibo allora questo a posto questo a posto facciamo un'ultima cosa forza 5 5 non ce la faccio andiamo a fare la meta touchdown e via touchdown grandi stile direi ottimo boh ragazzi io direi che termino qua termino qua e noi mi raccomando seguite il canale e raccomando se andate su youtube seguite il canale youtube noi ci vediamo presto per un'altra live di Blood Bowl 3 e ora facciamo un bel ride perché già che ci siamo andiamo a salutare Eliod che sta giocando a Blood Bowl 3 eh dai va bene Eliod dai Eliod così continuate a vedere un po' di Blood Bowl 3 giocato dalla gente che gioca bene vi ho dato una breve dimostrazione di cosa posso fare con gli umani la breve e grieve eh sì assolutamente è partito il ride il ride è stato annullato non si capisce perché riproviamo ride Eliod hai già un ride in corso mi dice ma non è vero niente stasera va ma non è vero niente